È stato un anno chiaramente impegnativo come tutti gli altri, però ecco la particolarità è stata proprio quella che dopo la chiusura, i due anni di chiusura del Covid che hanno riguardato tutti, chiaramente la nostra attività ha ripreso secondo anche quelle che sono le nostre peculiarità come organizzazione forestale, quindi devo dire che il 2022 è stato anche un anno dove i nostri reparti sul territorio, noi abbiamo 78 stazioni carabinieri forestali e stazioni parco e chiaramente la nostra è un'attività specialistica tutta improntata alla tutela dell'ambiente, alla tutela del territorio e in particolare ovviamente privilegiando sia l'attività preventiva e ovviamente anche l'attività repressiva. Le maggiori criticità che abbiamo riscontrato hanno riguardato sicuramente, noi quando parliamo di tutela del territorio ovviamente parliamo di tutta quella che è l'attività di vigilanza per la vincolistica, paesaggistica, idrogeologica, tutta l'urbanistica edilizia, quindi diciamo è tutta un'attività che ci vede impegnati con le nostre stazioni sia ovviamente come ho detto per la prevenzione e soprattutto anche quando serve, quando necessitare anche l'attività repressiva. Per quanto riguarda gli incendi c'è stato un aumento rispetto all'anno precedente? Questo è stato un anno caratterizzato anche da una forte siccità estiva, ma dobbiamo dire che in questa regione già i primi segnali di criticità li abbiamo registrati già dai mesi di marzo-aprile, tanto che la regione Emilia Romagna ha dovuto dichiarare lo stato di allerta e di preemergenza e quindi lo stato di grave pericolo per la propagazione degli incendi boschivi già nei mesi di aprile, di marzo-aprile. Quindi diciamo che la stagione è iniziata anche in un periodo non consueto, ovviamente poi nel periodo estivo diciamo che c'è stata anche una forte siccità ha determinato sia grossi problemi anche dal punto di vista dell'innesco degli incendi boschivi e sia anche per quanto riguarda la crisi idrica. Relativamente agli incendi boschivi bisogna dire che comunque i 199 incendi che abbiamo avuto sono stati comunque l'attività di spegnimento che viene condotta in maniera anche efficiente sul territorio da vigili del fuoco, protezione civile e ovviamente i carabinieri forestali per quanto riguarda anche l'attività investigativa e repressiva ha, devo dire, anche avuto buoni risultati perché i 199 incendi hanno comportato anche una superficie incendiata, boscata incendiata non particolarmente vasta di circa 400-400 ettari complessivamente. Tra gli illeciti abbiamo visto, ne abbiamo visti molti, riguardo ai rifiuti? Sì, questo è un tema, il traffico illecito e lo smaltimento illecito di rifiuti è un tema che ormai ci impegna da diversi anni diciamo che quest'anno abbiamo anche condotto delle operazioni anche di un certo o anche diciamo di una certa complessità in alcune province dell'Emilia Romagna una in particolare che segnalo è quella che è stata condotta dal Nipaf di Ravenna dove è stato appunto scoperto un sito che era dedito allo smaltimento illecito di rifiuti speciali e anche pericolosi quindi diciamo che su questo fronte noi i carabinieri siamo sempre impegnati insieme anche ai reparti territoriali anche perché è un settore che, ripeto, di particolare, come dire, interesse e anche i svolti hanno anche effetti pericolosi sulla salute pubblica quindi qui parliamo sia di gestione illecita ma parliamo anche di abbandoni perché anche questo è un fenomeno che anche in questa regione ovviamente si presenta frequentemente quindi l'attività di controllo del territorio che viene svolta soprattutto a livello preventivo ma ovviamente anche repressivo deve essere sempre al massimo livello quindi non possiamo sicuramente abbassare la guardia